Giambattista Ganzerli L'odio L'odio è un male oscuro di chi le distanze ha preso da un passato fuoco perdendone il calore sentendosi poi falliti oppure traditi L'odio è pur sempre amore incompreso dal cuore che davanti ad un volto ha gli occhi chiusi e i pugni stretti senza stringere poi nulla L'odio è cercare di amare se stessi difendersi da un legame che con dolore è stato strappato da un egoismo personale L'odio è come un fuoco che non brucia solo l'ignardente ma anche la mano di chi lo accende L'odio è come un luogo personale